Ciccio, Alberto, su, è ora di alzarvi Non ce la faccio Forza, forza, in piedi, bisogna andare a scuola Dico sul serio, papà, mi sento male Per favore, chiudi la porta, mi sto congelando Ma che vi succede? No, non lo so Avete la febbre? La porta, per favore, chiudila Mamma mia, che brividi di freddo che c'ho, sto malissimo Anche tu? Io e le tue figlie che stanno ancora più inguaiate di me, c'hanno una febbre altissima Ma che è successo? Anche Alberto e Ciccio stanno male Se ieri tu non ti fossi messo in testa di fare quel bagno maledetto nel Ruscell Loro stavamo bene, eh? Dici che è stato il bagno, ma io sto benissimo Per forza, sei tutt'ossa, dove ti viene il male? Io? Figurati Papà Arrivo Mi chiamano Super Lele Buolele, 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 buolele Ai, 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 ai Un giorno ti innamorerai Ai, 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 ai Vedrai staranno guai Ai, ai We, oh, il tempo pure a tutto si sa We, oh, quel che ti prende con gita We, oh, non siamo mai contenti perché We, oh, cerchiamo sempre quel che non c'è Ci stiamo rincorrendo in giro per il mondo E dentro ai nostri sogni stiamo ballando Ti diamo a nostri spese Una vita di sorprese Ti andrà la pista Ai, 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 ai Un giorno ti innamorerai Ai, 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 ai Vedrai staranno guai Ai, ai Ho freddo Lo so, lo so tesoro Forza, prendi la medicina e copriti bene Eh, papà, mi dai un'altra coperta? Sì, subito Vi fai maccheroni oggi? Certo tesoro Quando viene cettina io lo dico Ehi, cosa arriva questo caffè? Caffè in arrivo E cettina non si vede Papà! Sì, un momento Pronto? Cosa? Come dice? Chiamo dalla redazione della rivista Casa Bella Ci risulta che lei ha spedito una cartolina Per partecipare al concorso La casa dei vostri sogni Ah, sì, sì Ora mi ricordo C'era in palio un viaggio in America Per tutta la famiglia Se non sbaglio Esatto La sua è l'ultima casa Che ci rimane da vedere Vorremmo passare questo pomeriggio Se per lei va bene Sì, direi alle sei più o meno Sì Certo Certo Non c'è problema Molto bene Sì, sì, sì Non si preoccupi Sarà tutto a posto Benissimo Arrivederci A più tardi Ehi, famiglia Hanno chiamato dalla rivista Casa Bella Vengono oggi pomeriggio Hai sentito, papà? Oggi pomeriggio vengono quelli del concorso La casa dei vostri sogni Accidenti Che tempismo che hanno Si vince un viaggio in America Per tutta la famiglia Ma hai visto in che condizioni è la casa, Lele? Vengono alle sei Abbiamo tutto il tempo di rimettere a posto Aspetta che arrivi Centina e... A proposito Ma dov'è? Non lo so Chiamala, chiamala tu Ah, che caldo adesso Libero, copriti bene Bisogna sudare quando si ha la febbre, lo sai Ah, già Grazie, amore Secondo, vengono quelli della rivista Casa Bella Così pare Però la nostra non è che è molto bella E noi tutti a letto Secondo voi ci faranno molte foto? Speriamo di no Se ti fanno delle foto oggi Mica si impressiona solo la pellicola Ah, molto spiritoso Dimmi che non ci sei Che sei già uscita e stai venendo qui Non rispondere al telefono Non rispondere al telefono Pronto? Cettina, che ci fai lì? Che succede? Quel cretino Di Giacinga Ha voluto per forza che ci facessimo il bagno nel fiume Così mi è venuto il febbre Adesso però mi sento un poco meglio Sul serio? Davvero te la senti? E che vengono quelli di Casa Bella E non puoi immaginare in che stato è la casa E per di più stanno tutti male La febbre? Niente, ci siamo fatti il bagno nel fiume anche noi Grazie, allora ti aspetti Bele, il termometro! Sì papà, subito Nino, mi passi il capogrosso? Come? Quale capogrosso? Quanti capogrossi ci sono nella nostra hustle? Zio, mi serve un altro cuscino Vengo subito Salve capogrosso Senta, ho tutta la famiglia a letto con l'influenza Sì, va bene Grazie mille Arrivo appena posso Arrivederci La coperta papà! Eccomi, arrivo Pronto? Sta male? Sì, glielo dico Molto bene Davide, hai detto? Va bene, ciao La coperta papà! Dunque, limonata, cuscino e coperta Non potevano venire un altro giorno quelli della rivista? No, dicono che gli manca da vedere solo casa nostra Caffè e giornale Come ti sei coperto? Eh sì, perché tua madre... Grazie Ma c'è Cettina? Arriva, si è sentita poco bene Ma adesso si è ripresa Va meglio? Sì, sì, grazie Papà ci faranno delle foto quelle della rivista? Non credo proprio Nel vostro stato Che rabbia! È un mese che dico in classe che sarò su Casa Bella E adesso che vengo non posso farmi fotografare Ah, senti, ti ha chiamato un certo Davide Ah sì? Chi ha detto? Niente, che viene a trovarti Papà, tutti ti chiedono delle cose E posso chiederti anche io un favore? Sentiamo, cosa desidera la mia principessina? Mi parti, Squitty? Squitty? Beh, va bene Vado a prenderlo Oh, che bello E arriva la Cettina Arrivo Cettina, ma non avevi detto che ti sentivi bene? Non aggerito bene, aggerito meglio Oh, Vergine del Carmelo Che giramento di testa Le gambe non mi reggono proprio Ma che ti è saltato in mente Di uscire in queste condizioni? Ti ho sentito tanto preoccupato E poi non devono venire quelli della rivista, scusa Come medico ti ordino di metterti a letto Ma come, con tutto quello che c'è da fare? Guarda, non ti reggi neanche in piedi E chi ci pensa alla casa e a tutto il resto? Me lo dici? Io chiamo l'asla e dico che non posso andare Anche tu Non mi dire che ti sei beccato la febbre anche tu Vieni dentro, stai tremando La porta! Papà, vi passi il telefono? Un attimo, chiamo il ristorante cinese e gli chiedo di portarci il pranzo Che ne dite? Fico, ci sono i maccheroni cinesi? Come no? Ecco qua, da Jingyuan Io voglio i maccheroni cinesi Sì, sì Salve Sì, salve Come scusi? Non la capisco Senta, io vorrei ordinare il pranzo Oh, sì, sì Iponage Quale indirizzo? Se lo dice lei Proviamo questo Iponage No, no, non importa se è un po' forte Il mio indirizzo è Oh, sì Iponage Iponage Bene, fatto Non è stato facile, ma ci siamo capiti Vieni Papà, papà Eccomi, arrivo Che schifo, pannolone Sei un porcellino Ti sei sporcato tutto Non è colpa mia È il barattolo che è difettoso Vieni, andiamo in bagno Che ci diamo una pulita Eh, le sbrigati Che ci stanno tante cose da fare Anche la lavatrice Lavatrice E passa pure la cera in soggiorno Cera Oh, ti ho macchiato E non mi fa niente Accidenti, non risponde nessuno Il tuo fidanzato? No, non è il mio fidanzato Ah Che rabbia Ma venendo qui, sono un disastro E allora perché viene qui se non è il tuo fidanzato? E tu perché non la smetti di fare tutte queste domande? Dunque, vediamo Fare un'altra lavatrice Fare la spesa Gli compro una ragosta da leccarsi i barfi Che ne dici? Bene Bucato Spesa Passare la cera Sistemare le camere La cucina Il soggiorno Lavare i piatti Dimentico qualcosa Oh sì La cosa più importante Pulire i bagni Ok, credo sia tutto In un paio d'ore dovrai farcela Sì? Ippu Ippu L'aghe Ah sì, certo Il pranzo Benissimo Dov'è? Money, money Soldi? Va bene Un momento Sì E il cibo? Sì Ippu Cosa fa? Ippu Ippu Nogue Buono Buono Ippu Buono Fuerte 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 Buono Ippu Nogue No 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 Chi è Era Quell'anime No Chi è Sio Lale, che fine ha fatto il pranzo ? Fermati Fede, basta cosi ! Dio mio, le due e mezza, chi era quel brutto ? Mele, stiamo morendo di fame ! Il pranzo, ecco, arriva ! Che disastro ! Scusa, ma perché non chiami quelli dalla rivista e li dici di venire un altro giorno ? Non si può, se non vedono la casa, addio concorso ! Allora lo puoi pure salutare, concorso ! Eh no, cara mia, io non mi arrendo, ho a disposizione ancora tre ore ! Lascia stare, Lele, a tete ci vorrebbero almeno tre giorni, altro che tre ore ! Quanto ci scommetti che in tre ore metto tutto a posto e mi rimane anche un po' di tempo ? Ah Lele, la casa tosta, ecco che ci rimane ! Allora, quante ne vuole ? Una, due, tre, quattro ! Sono buonissime, aragoste freschissime ! Una, ne voglio solamente una ! Una, e dopo, una buona aragosta per il signore ! Eh, non è che potrebbe sceglierne un'altra ? Oh, scelga pure quella che vuole ! Ma le assicuro che questa è la più fresca, parola mia ! Eh, guardi che meraviglia ! Eh beh, a me sembra un po' malaticcia ! Eh, meglio sai, è più morbida ! Guardi, io le do quella che vuole ! Ma se sceglie questa, fa un figurone diretta a me ! Va bene, allora la prendo ! Al lavoro ! Eh, grazie ! Eh, ma tu chi sei ? Davide, un amico di Maria ! Ah, entra pure ! Vai, vai, è di sopra, la seconda porta a destra ! Grazie ! Ciao famiglia ! Ciao papà, voglio l'acqua ! Hai comprato i fumetti ? Sio Lele, ci puoi portare la televisione, sta per iniziare la partita ! Che cosa hai comprato ? Casa dolce casa ! Papà, voglio l'acqua ! Eccomi, arrivo ! Le quattro e dieci ! Perché ti aggiusti tanto ? E papà, mi porteresti la spazzola ? E perché stai benissimo ? Come ? Ciao, io sono Annuncia, e tu ? Davide, molto piacere ! Papà, voglio l'acqua ! Arrivo, arrivo ! Quanto pesa, dove la metto ? Sul tavolo ! Mettila sulla mensola ! Perché non la appoggi sulla sedia, lì vicino alla porta ? Ci potresti portare dei pop corn ? Si, e un cuba libre ! Perché, che c'ho ? Ho chiesto solo dei pop corn ! Zitto, che comincia la partita ! Ti ricordi di me, vero ? Ci siamo incontrati quel giorno, eri con una tua amica ! Appena ti ho visto, mi sono detto, devo farle una foto ! Oh, mamma mia, sono un mostro ! Secondo me, invece, stai benissimo ! Prima di tutto, perché la foto l'ho fatta io ! E secondo, perché è impossibile che una ragazza carina come te venga male in fotografia ! Comunque hai ragione, sono d'accordo, si può fare di meglio ! Che ne dici, se usciamo e ti faccio altre foto ? Io e te ? Davvero vuoi uscire con me per farmi altre foto ? Oppure per fare qualsiasi altra cosa ? Si, volentieri ! Allora, ti va di uscire con me ? Mi piacerebbe tanto, Davide ! Ciao, ripasso a trovarti quando stai meglio ! Adesso siete fidanzati ? Molto meglio ! Arrivo ! Pronto ? Cosa ? Ma se avevate detto alle sei ! D'accordo, molto bene, alle cinque e mezza ! Si, si, non c'è problema, vi aspettiamo ! Fincava anche questa ! Oddio, la lavatrice ! E ora il detersivo, molto detersivo ! Al massimo, così facciamo presto ! Dove aveva un nastro ? Ah, si ! E ora tocca a te ! Mi dispiace, ragazzi, devo farlo ! Uno, uno, due e tre ! Si vuoi sapere che cosa stai facendo al povero Fede ? Ma che c'entra Fede ? La ragotta non l'hai comprata ! Ma si che l'ho comprata ! Ce l'avevo ! Io, io, io ! Ma dove sta ? Ti giuro che era qui ! E me lo dici che cosa è successo in soggiorno ? Sembra che sia passato un turnato ! E si può sapere che ci fai tu in piedi ? Torna subito a letto ! Dai, Lele, io ti voglio aiutare, per piacere ! Si, subito ! Che caratterino ! Oh, mamma mia ! Non hai pagato un uvago troppo per queste tre cose ! Cettina, vuoi smetterla di toccare tutto ? E la lavatrice non l'hai mica messo al massimo, vero ? Certo che no ! Ora, però, vattene a letto, che sei malata ! La frutta che hai comprato, comunque, è in marcia, sappilo ! E non tornare finche non sei guarita ! Guarda, che disordine ! E io che ti volevo pure dare una mano ! Adesso che succede ? Ahah, mamma, la ferma ! Beh, ma, la scuola ! Begniamole ! Begniamole ! Ah, no, no ! Non venga ! Ma... Ah, no, no ! Ah... ... Abbia ! non farò mai in tempo, quelli della rivista stanno per arrivare corro a sistemare il soggiorno Maria, di quello che ti pare però secondo me, lui è il tuo fidanzato e te ne sei innamorata meglio, molto meglio perfetto e ora l'ultimo tocco cera Cettina ci mette sempre un secolo per passarla è la solita esagerata ecco, così viene proprio brillante ehi tu, ecco dove ti eri nascosta torna qui cara gostuccia Maria chi c'è, chi c'è, oh annuncia, lo sai che adesso mi sento veramente bene che c'è, che fate in piedi sono guarita anch'io, papà sta alla grande si, ma dovete riposare un altro po', tornate a letto bravo Lele, bello di papà, sei un eroe ci sono io, non ti preoccupare ok, papà che c'è, all'improvviso state tutti bene Garg che era tu, che ci fai qui ? sono guarita, forza che ti do una mano, se no, non fai in tempo ma se... shhh, Lara, costa stai bene? aspetta che ti aiuto ma si può sapere quanta c'era hai messo, sta casa sembra diventata una pista di pattinaggio wewe, calmo con gli insulti, giovanotto ma no, che non avevo mai visto una casa del genere effettivamente ci sono voluti molti anni di creativita e ricerche è stupenda, mi do la sensazione di caos creativo è una casa vissuta, devo dire che mi piace molto attenzione secondo me quelli sono proprio fuori di testa, pensate hanno detto che la nostra casa è piena di vitale spontaneità non stai contento, papà? molto evviva, schiaffa! evviva! evviva! ah! 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 Davide, ma come hai fatto a entrare? alla porta, te l'avevo detto anche se eri ripassato quando saresti stata meglio contenta? contentissima! adesso si che il tuo rilanzato ale, ale, ale però diciamo Grazie a tutti. Grazie a tutti.